Ciao a tutti, benvenuti su AMF Channel, siamo qui per parlarvi di un momento scottante all'interno del Grande Fratello 2023. Massimiliano Varese e Anita Olivieri, noti per dividere il pubblico, hanno sollevato polemiche discutendo del diploma di Giuseppe Garibaldi. Varese ha dichiarato che Garibaldi ha conseguito il diploma scientifico, ma la reazione di Anita è stata sorprendente. Ha risposto a Varese, se, al bagno. Scatenando critiche e reazioni indignate sui social. Questo non è il primo scontro in cui è coinvolto Garibaldi. Solo qualche giorno prima, Anita lo aveva difeso da accuse di omofobia, sottolineando le differenze culturali. Tuttavia, le sue parole hanno suscitato nuove controversie e interrogativi sulle reali intenzioni di Anita. Il pubblico su piattaforma è insorto, chiedendo provvedimenti per le parole di Anita. Molti hanno notato un cambio di tono, passando dalla difesa alla presunta offesa nei confronti di Garibaldi. Prima della puntata, Anita ha dichiarato di non essere pronta a ulteriori mazzate, forse prevedendo il caos che la sua affermazione potrebbe causare. Voi, amici di AMF Channel, che cosa ne pensate? Ditelo nei commenti. E se l'articolo vi è piaciuto, mettete un pollice in su e continuate a seguirci su AMF Channel. La situazione è in continua evoluzione, eviteremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Grazie.